Hola Iro, bentornato su questo canale e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Alessandro del Saggio, cofondatore della Community Investiero e di Clabiero. Ed in questo video breve, prometto, brevissimo, infatti non sarà come quei video in cui dico oh è un video breve, poi dura 30, 40, 50 minuti, però mi lascio un po' prendere. Sarà davvero breve, ma importante, quindi seguilo fino alla fine perché andremo a svisciolare un argomento davvero forte ed essenziale per noi investitori. Un argomento che spesso, se non compreso, limita tantissime persone dall'iniziare effettivamente un percorso, dall'iniziare quella che è poi la propria scalata che ci porterà a vivere gli investimenti. Dico, sto parlando di una cosa che potrà sembrarti base ma che ti assicuro non lo è affatto, ovvero del che cosa significa davvero investire. Perché per molte persone non è assolutamente chiaro, molte persone hanno dei preconcetti sul denaro che sono estremamente limitanti, che a volte si fa anche fatica a comprendere da dove arrivano, dalla società, dalla scuola, dalla famiglia, da come si è cresciuti, che non gli permettono effettivamente di capire cosa significa davvero investire, a volte perché semplicemente si è anche lontani magari da quella che è la nostra filosofia, e quindi bloccano le persone, non gli fanno fare azione, poi non gli fanno ottenere di conseguenza risultati. Quindi, di cosa sto parlando, molto spesso ci capita, diciamo, confrontati anche molto recentemente con sé, di entrare in contatto con delle persone online, magari sotto le sponsorizzate, su Instagram, via discorrendo, oppure anche dal vivo, quando magari incontriamo persone che sono un po' distanti al nostro mondo, a quello degli investimenti, non ci conosco, non conosco i nostri contenuti, magari pensiamo, non so, a un pranzo di famiglia, ok, per renderla semplice, entriamo in contatto con delle persone che quando diciamo che viviamo di investimenti, banalmente siamo degli investitori, professionisti oggi, e facciamo questo da tanti anni, ecco, la reazione delle persone principalmente si divide in due tipologie, cioè chi davvero si chiude completamente, perché in qualche modo ha dei preconcetti talmente tanto forti che non è neanche disposto a iniziare un dialogo per mettere in relazione, per andare a mettere in discussione potenzialmente anche alcune cose, alcune credenze, che ha avuto e radicato negli anni, e quindi alcune persone dicono proprio ma va, è impossibile, ti offendono, cose di questo tipo, e quindi, vabbè, per quelle persone c'è poco da fare, non penso comunque che guarderanno questo video, e quindi si passa oltre semplicemente perché c'è un muro troppo grande da superare. Tuttavia, molte persone invece sono interessate all'argomento, sono curiose molto spesso, e tuttavia vediamo questa reazione, una reazione che dice cavolo, bello, interessante, però non fa per me. E tu dici, cavolo, come non fa per te? In che senso? E quando andiamo a fondere e comprendere perché non fa per te, magari te lo stai chiedendo anche te, magari se è capitato in questo video, per sbaglio, stai dicendo sì, bello, investire, ok, ma non fa per me. Ok, io ti chiedo, perché non fa per te? E quando lo chiedo a queste persone, principalmente sento queste tipologie di risposte, o è perché non sono ricco, è perché non ho centinaia di migliaia di euro, è perché non ho questi milioni, oppure è perché non ho competenze, non ho un master, non ho studiato in università, non conosco nessuno, e quindi sono un po' delle risposte limitanti, anche dovute a non comprendere davvero cosa significa investire, motivo per cui questo video è davvero importantissimo. Forse sarà uno dei video più importanti come concetto di questo canale, e quindi che cosa significa davvero investire, e perché sono assolutamente sicuro che possa fare anche per te l'investimento. Perché investire significa esattamente andare ad allocare una risorsa, almeno per quello che è la nostra filosofia e che abbiamo visto funzionare, per avere una risorsa maggiorata. Ma non significa investire del denaro, semplicemente per ricevere del denaro maggiorato in cambio delle piccole rendite. È molto più ampio il discorso di investimento, infatti si può investire denaro, quindi si possono investire soldi, e chiaramente per avere un investimento, per fare un investimento di denaro, serve sicuramente il denaro. Tuttavia si può investire del tempo per un'attività, o si possono investire conoscenze. Conoscenze intese come competenze, e quindi skills di una determinata persona, ognuno di noi ha delle competenze e skills diverse, oppure conoscenze intese proprio come il network di contatti. Magari alcuni di noi non hanno grandissime competenze ancora, ma hanno dei contatti straordinari, per varie motivazioni che ci sono accadute nella vita, abbiamo un certo network. Ecco, anche quella è una risorsa che noi possiamo mettere sul piatto per avere una risorsa indietro maggiorata. Quali sono le risorse che possiamo prendere poi indietro, quali sono poi i guadagni che possiamo ricevere dal nostro investimento, che sia un investimento, ti ripeto, di denaro, di tempo, o di conoscenze. Ebbene, noi possiamo investire queste risorse per ricevere a nostra volta tempo, denaro o conoscenze. Quindi, ognuna di queste risorse può produrre un'altra risorsa o la stessa risorsa. Ora, prova ad essere un pochettino più chiaro, fare qualche esempio, perché sennò ci perdiamo. Noi possiamo investire del denaro per produrre altro denaro, quindi magari investiamo, la faccio semplice, in borsa, per avere un rendimento, per aspettare che la nostra azione si rivaluta e poi magari la vendo. Quindi sto investendo del denaro per avere effettivamente più denaro in cambio, in questo caso sto investendo denaro e conoscenza, inteso come competenza. Oppure, semplicemente, mi sto affidando alla terza persona, e quindi cosa sto investendo? Sto investendo denaro e conoscenza, inteso come network, perché sto prendendo il contatto che io ho ricevuto. Spesso quando si investe si utilizzano due di queste risorse. Qui abbiamo visto il denaro, abbiamo fatto un esempio molto semplice, all'occhio del denaro lo investo, sono stato bravo, o qualcuno è stato bravo per me, ma io lo conoscevo e quindi ho unito conoscenza e denaro per produrre più denaro in questo caso. Ma posso mettere sul piatto anche denaro per non avere in cambio più denaro, ma più tempo magari. In che senso, in che modo, perché magari sto, ho un'azienda, a noi è capitato molto spesso, anche frequentemente, dove abbiamo inserito noi figure, dove cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un investimento di denaro per prendere una figura in più, delegare alcune attività e avere indietro più tempo. Più tempo che poi possiamo allocare investimenti per prendere conoscenze e quindi anche qua più denaro, no? Oppure possiamo allocare del denaro per avere più conoscenze, inteso come competenze, oppure proprio come network di contatti. per investire del denaro, avere più conoscenze, in maniera semplice, possiamo comprare consulenze, possiamo comprare corsi. Per avere invece più conoscenze in termini di network, possiamo partecipare a delle masterclass. Recentemente, per esempio, con Ste, abbiamo investito comunque una cifra considerevole, parliamo di 15.000 euro circa, per stare 40 giorni a Dubai, siamo andati a Dubai, per allargare il nostro network internazionale, perché ci sono dei contatti sicuramente interessanti. Ecco, lì abbiamo investito un po' di tempo, perché ci siamo stati effettivamente, sicuramente del denaro, soprattutto del denaro, per avere in cambio, che cosa? Più denaro, no? Più conoscenze, perché poi comunque è un asset che possiamo sviluppare, portare avanti, per produrre anche qua, più denaro, più tempo libero, oppure altre conoscenze, no? Perché conoscenze ti portano altre conoscenze. Quindi abbiamo visto come può funzionare il denaro per avere in cambio una di queste, di questi ritorni maggiorati, vediamo come funziona il nostro tempo, in maniera molto semplice, noi possiamo, dedicare il nostro tempo per lavorare per qualcuno, fare liberi professionisti per avere più denaro, possiamo dedicare il nostro tempo per andare a un evento specifico e quindi magari avere in cambio più conoscenze di networking, oppure possiamo allocare il nostro denaro per approfondire, studiare e poi anche qua avere una nuova risorsa da poter allocare. Conoscenze, in che modo? Anche qua, se parliamo di conoscenze inteso come network, noi magari possiamo avere un business interessante o conoscere una persona che ha un business interessante ma che gli manca una figura specifica che gli fa fare il salto. Esempio, a me è capitato in passato di entrare in contatto con una società davvero interessante che però non riusciva a fare andare l'azienda perché gli mancava un tassello che era un po' arrugginito, chiamiamolo così, ed era una persona che faceva Facebook Ads, quindi che era in grado di portare traffico al prodotto dell'azienda, io gliel'ho presentata e comunque ho avuto un piccolo ritorno per un lasso di tempo perché poi sono entrato e ho iniziato a fare consulenza e abbiamo lavorato e la persona ha avuto chiaramente un vantaggio ma che cosa ho fatto? Ho investito conoscenza inteso di ho presentato una persona, l'ho inserita in un ingranaggio in questo caso di un altro per avere in cambio più denaro. Altrettanto, spesso invece, capita proprio ed è la cosa più semplice di fare e applicare questo concetto direttamente sulle mie attività. Ad esempio, c'ho un buco nel senso che mi manca una figura nell'organico e ho bisogno di far funzionare appunto la macchina chiedo alle mie conoscenze oppure chiedo alle conoscenze delle mie conoscenze chiedo alle mie conoscenze di presentarmi ad altre persone che possano risolvermi quella problematica. Sono tutti asset, il nostro tempo è un asset, la nostra conoscenza è un asset, il nostro network è un asset, i nostri soldi sono un asset e tutti questi possono essere utilizzati per produrre effettivamente un asset maggiorato per avere indietro appunto un output chiamiamolo così e quando inizio a pensare a questo concetto ora spero davvero di cuore di non essere stato troppo confusionario e di averti trasmesso effettivamente il messaggio comprendi che tutti possiamo investire e anzi tutti paradossalmente già investiamo ma non ce ne rendiamo conto e quando invece ci rendiamo conto che stiamo già investendo e che possiamo continuare ad investire diventa tutto più facile perché lo stiamo già facendo il nostro preconcetto sull'investimento automaticamente crolla perché dice cavolo ma io l'ho sempre fatto ho sempre investito il mio tempo per avere una paga oraria bene lo sto facendo perché non investo anche quest'altra risorsa perché tanto sto già investendo investo anche un po' di denaro investo anche un po' di questo tempo non solo per avere una paga oraria ma anche per imparare una competenza quindi poi posso investire la mia competenza per aumentare la mia paga oraria oppure per conoscere nuove persone presentarle creare team fare networking avere migliori informazioni quindi esempio noi abbiamo investito adesso 15.000 euro ok per fare 40 giorni più o meno a Dubai per espandere il nostro network di conoscenze cosa è successo? che abbiamo trovato una collaborazione che ci porterà denaro abbiamo conosciuto delle persone che in futuro potrebbero esserci utili noi potremmo essere utili con la nostra competenza loro persone estremamente esperte in maniera straordinaria in ambito cripto che già ci hanno passato delle informazioni che ci avrebbero fatto perdere molti più soldi se invece non avessimo fatto quell'investimento e quindi questo è un po' un video per poi lo chiudo chiaro che raccordi è infinito però per dirti trasmetterti cosa significa davvero per me investire per me per noi quello che è la nostra filosofia come investitori e quindi tutto qua investire significa allocare una risorsa per avere una risorsa maggiorata che non sia strettamente per forza il denaro e quando comprendi questo cambia tutto non so se sei d'accordo ma diventa tutto più semplice in qualche modo e quindi niente dai io spero di averti trasmesso effettivamente qualcosa di averti fatto passare cosa significa davvero investire che magari tu possa oggi guardare i tuoi asset in modo diverso perché magari pensavi cavolo non investo perché non ho 100.000 euro aspetto di arrivare ad avere 100.000 euro per investire però magari con questo video ti sei accorto che stai già investendo che potresti allocare una risorsa differente hai del tempo libero puoi dedicarlo a acquisire competenze e iniziare degli investimenti attivi hai poco tempo ma hai un grandissimo network di persone bene potresti pensare di metterle in contatto con delle opportunità farle incontrare con altre persone per avere magari anche qua un riconoscimento economico oppure semplicemente sta aiutando delle persone a me capita spessissimo ad avere incrementare il proprio business e in cambio ti stanno presentando altre persone sta allargando l'asse delle conoscenze e a un certo punto esplode tutto e diventa tutto scalabile ma queste sono tutte risorse importanti perché il denaro senza il tempo le conoscenze inutili le conoscenze senza il denaro senza il tempo a volte sono inutili il tempo senza il resto a volte non ti permette di concludere di completare tutto quindi niente dai ho fatto un po' questa chiacchierata spero di averti trasmesso il messaggio fammelo sapere qua nei commenti uno se sei d'accordo due se non so se sono stato troppo confusionare quindi non ti ho fatto capire niente e noi ci vediamo al prossimo video e se non sei ancora la community entra la community perché continuiamo questa chiacchierata e potrai avere accesso a altre informazioni altri contenuti e ormai siamo quasi 6.000 investitori quindi potrai iniziare ad espandere effettivamente fin da subito le tue conoscenze come skills come competenze come informazioni ma anche iniziare a contattare iniziare a sentire a prendere contatto con altri investitori che potrebbero aiutarti a creare un nuovo asset quindi fammi sapere se ti piace questo video e alla prossima ciao